L'affermazione di Nietzsche Dio è morto, Gott ist tot, è un'affermazione che ha dato luogo a una Wirkungsgeschichte, una storia degli effetti pressoché infinita. Cosa intende dire quando dice che Dio è morto, Nietzsche? Anzitutto questa formula si trova prima che in Nietzsche, in Hegel, in Fede e Sapere del 1802, anche se in un'altra valenza, tuttavia per precisione filologica occorre ricordarlo. Ma quando Nietzsche sostiene che Dio è morto, cosa sta dicendo? È una professione di ateismo? Sta dicendo che Dio non esiste? Non proprio, altrimenti sarebbe stata più che sufficiente la formula già sperimentata ampiamente dalla tradizione occidentale secondo cui Dio non esiste, Dio non è. Negare l'esistenza di Dio, ammettere che Dio non è. Nietzsche afferma una cosa ben diversa allorché sostiene che Dio è morto. Dire che Dio è morto significa far riferimento a un processo, a un processo tale per cui Dio, che illuminava il cielo, che illuminava la fede, le credenze, il mondo valoriale degli uomini per un percorso, per un tratto del loro tragitto, a un certo punto ha smesso di essere, è morto, è venuta meno la fede in Dio. Sicché il primo tratto su cui è bene insistere quando si ragiona sulla formula nicciana per cui Dio è morto è l'elemento processuale, il processo storico con cui Dio muore, che non vuol dire, ripeto, Dio non esiste, non è mai esistito e mai esisterà. Vuol dire che muore quel Dio nel quale gli uomini avevano creduto e che aveva illuminato il loro orizzonte di senso. Nice allutte dunque a un processo che culmina con la morte di Dio, con il riconoscimento che il cielo è vuoto. Sotto questo riguardo il riconoscimento della morte di Dio, inteso come valore di tutti i valori, come fulcro valoriale, come puntello attorno al quale si organizza il senso, si organizzano i valori in cui l'Occidente ha creduto, bene, la morte di Dio allude al processo storico con cui si compie il nichilismo. Dire che Dio è morto significa riconoscere niccianamente l'avvento del nichilismo. Il nichilismo essendo quel processo, ancora una volta si caratterizza come processo, in grazia del quale non resta più alcun valore, in cui tutto rotola verso i bordi, in cui precipita la domanda di senso sul perché, sul verso dove, in cui ogni domanda di senso implode. La morte di Dio dunque allude a quel processo di nichilismo in grazia del quale, alla fine, del valore, dell'essere, dei punti di riferimento non resta più nulla. Quella che descrive Nietzsche è dunque la storia dell'Occidente, la storia che Nietzsche prevede dovrà ancora svolgersi a lungo, dice testualmente, quella che vi racconto è la storia dei prossimi due secoli. La morte di Dio di fatto coincide con il processo di svalorizzazione dei valori e poiché Dio è il valore dei valori, o se si preferisce è il punto di riferimento attorno al quale tutti gli altri valori dell'Occidente si organizzano, dire che Dio è morto significa dire che crolla il cielo, che vengono meno tutti i valori che intorno a Dio come valore dei valori si erano organizzati. Sotto questo riguardo la morte di Dio allude a un processo in fase di sviluppo che si compie nella modernità nichilistica in cui tutto precipita nell'abisso. Il nichilismo è un tema ampiamente discusso nell'Ottocento, lo troviamo in Turgenev, padri e figli, lo troviamo in Dostoevsky che Nietzsche peraltro apprezza, Dostoevsky dà al nichilismo e alla morte di Dio una diversa declinazione naturalmente in chiave religiosa, quella chiave religiosa che in Nietzsche non è affatto presente. In ogni caso, al netto delle differenze tra questi autori a cui molti altri se ne potrebbero aggiungere, ciò che Nietzsche mette a tema nelle sue opere è la morte di Dio come processo di svalorizzazione. Abbiamo ucciso Dio, ripete Nietzsche. Nella Gaia Scienza, aforisma 125, l'uomo folle al mercato urla Dio è morto, l'abbiamo ucciso noi, abbiamo cancellato con la spugna l'intero orizzonte, il cielo, abbiamo perduto il nostro punto di riferimento fondamentale, dobbiamo congedarci da Dio a questo punto. Ora la morte di Dio viene percepita in senso tragico da Nietzsche come svalorizzazione dei valori e ciò va tradizionalmente sotto il nome di nichilismo passivo e tuttavia questo deve essere anche per Nietzsche il punto di partenza per una trasvalutazione dei valori che generi nuovi valori, che crei artisticamente, valorialmente, un nuovo mondo valoriale ed è ciò che Nietzsche qualifica e che anche gli interpreti così chiamano il nichilismo attivo. Il nichilismo passivo della morte di Dio deve figurare come il primo passo verso la rigenerazione di nuovi valori in una diversa cornice di senso in cui l'uomo finisca per essere creatore attivo dei propri valori. C'è un passaggio molto bello nello Zarathustra in cui si dice morti sono tutti gli dèi ora vogliamo che il superuomo viva. Ecco qui convochiamo allora un'altra figura chiave della filosofia di Nietzsche, l'übermensch, che viene tradizionalmente tradotto con superuomo ma che potrebbe anche e forse ancora meglio tradursi con oltreuomo. Il riconoscimento della morte di Dio e dell'iniziale nichilismo passivo trapassa poi in quel nichilismo attivo della creazione di nuovi ordini valoriali che trova nel superuomo, nell'oltreuomo, übermensch, über significa tanto super quanto oltre al di là il proprio punto di riferimento. Il superuomo che è destinato poi anche a creare certi equivoci nel novecento ovviamente è colui il quale va al di là della vecchia morale, va al di là del vecchio orizzonte valoriale centrato su Dio e colui il quale con potenza creativa genera un nuovo ordine valoriale e colui il quale prende un congedo calmo e sereno da Dio e si accorge che tutti quei valori e quei credo che caratterizzavano l'orizzonte di senso centrato su Dio possono essere ritenuti superflui, possiamo liberarcene in tutta tranquillità. Si può attuare così quello che in un altro testo di Nietzsche si chiama il crepuscolo degli idoli che allude a un tramonto sereno potremmo dire, tramontano serenamente gli idoli. Sotto questo riguardo il superuomo che non è quanto un uomo superiore agli altri, quanto un uomo che è andato al di là rispetto all'orizzonte storico del tempo di Dio, ecco fonda un nuovo ordine valoriale, fonda un nuovo mondo, un nuovo mondo che non è più di tipo religioso, dice Zaratustra, non c'è nulla in me del fondatore di religioni, non voglio credenti, non parlo alle masse, ho paura che un giorno mi facciano santo, così poi in ecce uomo, Nietzsche dice di sé. E poi spiega anche che in realtà il superuomo non è ancora mai esistito, in Zaratustra, in così parlo Zaratustra, Alssosprach Zaratustra lo dice testualmente, ho controllato bene, ancora non è esistito un superuomo, li ho visti tutti e due nudi, l'uomo più grande e il più meschino, nessuno dei due è per ora un superuomo. Quel che caratterizza comunque il nichilismo attivo e il superuomo è, come si diceva, l'abbandono dell'orizzonte valoriale e della trascendenza, quello che ha determinato poi la perdita di fede, quando ci si è accorti che era un nulla, da Platone con la trascendenza, al cristianesimo con il mondo dell'aldilà, fino alla morte di Dio, alla perdita di riferimento a questo mondo valoriale, bene, il nuovo mondo valoriale che si fonda sul nichilismo attivo dell'oltre uomo non ha più bisogno della trascendenza, infatti la fedeltà alla terra è ciò che caratterizza l'oltre uomo, che non ha più bisogno di divinità, di trascendenza, di eternità, si basa sul piano della pura mondanità, rimanere fedeli alla terra è il grande imperativo dell'Ubermensch, fedeltà alla terra significa fedeltà alla vita, significa vivere pienamente, esaltare la salute e la sanità del corpo ed è altresì affermazione di una volontà creatrice che istituisca nuovi valori, questo è il vero significato della volontà di potenza, non più tu devi ma io voglio, significa liberare l'orizzonte dall'ordine valoriale che si era organizzato intorno alla figura di Dio, significa liberare la volontà creatrice dell'uomo rendendolo finalmente Ubermensch, soggetto fine a se stesso, soggetto che crea liberamente il proprio mondo, sotto questo riguardo l'amore per la vita e l'antitesi rispetto al vecchio mondo platonico e cristiano, il mondo platonico cristiano, il mondo della trascendenza, il mondo che si era organizzato intorno a Dio era un mondo malato secondo Nietzsche, un mondo che in nome di Dio negava la vita, in nome del divino negava l'umano, il nuovo mondo fondato sul nichilismo attivo, sulla volontà di potenza sull'Ubermensch è un mondo invece di volontà creatrice, un mondo centrato sulla potenza umana, dove non c'è più il tu devi nella forma dell'imperativo categorico o del dovere cristiano religioso, c'è solo l'io voglio, la volontà creatrice del soggetto, dell'Ubermensch, che preso congedo da Dio può raffermare pienamente se stesso e la propria volontà.